Cos'è la radiologia? La radiologia è l'uso di radiazioni per diversi tipi di imaging, inclusi i raggi X imaging significa semplicemente creare un'immagine della configurazione interna di un oggetto denso, come parte del corpo umano, con l'uso di energia radiante. La radiologia è talvolta chiamata anche radioscopia o radiologia clinica, quest'ultima a causa dei numerosi usi delle tecniche di imaging per la diagnosi e il trattamento di lesioni o malattie. L'imaging include raggi X, colorante radiante, ultrasuoni, tomografia computarizzata e risonanza magnetica o risonanza magnetica. In campo medico, la radiologia è una specializzazione. Un radiologo legge o interpreta un'immagine per individuare una lesione, determinare la gravità della lesione o aiutare a rilevare anomalie come i tumori. Questo è il motivo per cui i pazienti spesso devono attendere i risultati ufficiali di una radiografia o di un'altra immagine, anche se il caregiver primario lo ha revisionato. Uno specialista in radiologia deve anche interpretare i risultati e consultare il medico o offrire una relazione delle sue scoperte al fine di ottenere una diagnosi accurata. Le cliniche e le strutture mediche che non impiegano un radiologo in loco devono inviare l'immagine per l'interpretazione e attendere i risultati. La radiologia è una componente importante della diagnosi e del trattamento, quindi il radiologo ha una grande responsabilità nell'ottenere immagini chiare e distinte e rivederle con estrema cura. Immagini o interpretazioni errate possono portare a cose mancanti o addirittura a diagnosi errate delle condizioni del paziente. Ottenere immagini di alta qualità attraverso la radiologia può essere difficile quando un paziente soffre o soffre di malattie, quindi un radiologo o un tecnico di imaging deve avere un ottimo modo di fare il letto. Il radiologo deve anche essere in grado di confortare il paziente, mantenendolo calmo, e in grado di spiegare chiaramente le procedure radiologiche per ridurre l'ansia del paziente. Lui o lei deve anche osservare a fondo le cartelle cliniche del paziente e fare domande per assicurarsi che i raggi X o altre tecniche di imaging non siano particolarmente rischiose per uno specifico paziente, per esempio una donna che o potrebbe essere incinta. Poiché le tecniche di radiologia richiedono l'uso di radiazioni, un tecnico deve anche proteggere se stesso e il paziente dai possibili pericoli associati alle radiazioni.